Un tribunale belga ha condannato oltre 100 persone per reati legati alla droga nel più grande processo di questo tipo del paese, stroncando un'importante rete criminale che operava fino al Sud America e al Marocco. I criminali sono stati scoperti dopo che la polizia si è introdotta nel servizio telefonico Sky ECC, una piattaforma in cui all'apparenza sembrava molto difficile penetrare. Il caso fa luce sul problema della droga in Belgio. Il porto di Anversa è infatti una delle principali porte d'accesso europee per il contrabbando di cocaina. 129 imputati sono stati accusati di far parte di diverse bandi della droga che erano dietro l'importazione su larga scala di cannabis e cocaina in Europa. I principali leader delle bande hanno ricevuto pene che vanno dai 7 ai 17 anni di carcere, mentre altri imputati hanno ricevuto pene che vanno dai 14 mesi ai 15 anni. Oltre al traffico di droga, gli imputati sono stati anche puniti per il loro coinvolgimento in violenze, estorsioni e rapimenti.